Stiamo provando a raggiungere il passo dell'Imbara. Con la coltre bianca che vedete il fumo, il fuoco è sotto valascia adesso, il grecale lo sta spingendo giù in basso. Non sappiamo ancora se il fuoco è stato spento oppure no. Speriamo di potervi dare notizie al più presto. Grazie a tutti. Siamo quasi arrivati al passo. Sentite il rumore degli elicotteri? Ci sono in azione due Canadair e tre elicotteri. Coltissimo olore di fumo in questo punto, anche se il vento di grecale lo sta spingendo verso il basso. Ecco l'elicottero in azione, lo vedete? Scendiamo dalla macchina. Notizie, notizie. È grosso. Non vi trovo vedere l'elicottero in mezzo all'acqua l'auto. Un viso molto noto. Ciao, ascolta, il fuoco su, come sta andando? È arrivato praticamente alle case. Ma sono riuscito a domarlo su? No, penso che sia alle case, io sono arrivato adesso. Però c'erano i miei lì, gli hanno fatto evacuare. Ma si sta spostando però adesso il fronte, sta scendendo giù, il vento di grecale lo spinge giù. È coltato il carico del bacino e si sta scendendo per sganciare. Ma questo ancora non ho visto da dove... Ma fanno salire su? Fino a un pezzo mi stanno dicendo, perché adesso i miei sono qua, quindi sono più tranquillo. Io sono arrivato in mezz'ora da Palau. Al volo? Sì, beh, chiaramente la preoccupazione, stavo lavorando. Quindi adesso sono tranquillo che sono qua, perlomeno. Va bene. È chiaro che abbiamo tutti i terreni lì, le case. Speriamo che non arrivi... Ma su fanno salire? Non lo so, non te lo so dire. Anch'io volevo provare a salire. Ci proviamo? Proviamo. Proviamoci la, vieni macchina con me. Aspetta che parcheggio la macchina. Va bene. O andiamo con la mia. Ah, andiamo con la mia, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni tranquillo. Sicuro. Sicuro. Ecco l'altro elicottero che sta caricando l'acqua. In macchina come Luigino Cossu, adesso vabbè, l'avrete riconosciuto sicuramente, è un noto cantante che da queste parti ha la sua abitazione e i suoi terreni. Luigino, ti do a te adesso il telefono come telecamera. Ok, perfetto. Speriamo di... Faccio il reporter. Già una volta avevo fatto. Già una volta mi ricordo l'avevo fatto. Sempre insieme a me. Sì, il fuoco è stato domato. Vede anche il Canada in rinazione? Sì, ci sono il Canada. Il fronte sembra molto male. Però il fronte, sì, perché lì è tutta Boscaglia. Sì, è troppo. Sì, è troppo. Di questa nostra povera terra. Purtroppo... Di questa piaga terribile. È una piaga terribile che tutti gli anni ci fa vivere con l'angoscia. L'assistere al lancio. Vedete il fuoco? Vedete le fiamme che si stanno spostando lentamente? Si stanno spostando giù? Da dove è diretto l'elicottero sicuramente si è spostato anche il fronte. Sì, eccolo qui. È proprio dove ci sono le case nostre. Porca miseria. Scusate il linguaggio. Ci sta, ci sta, ci sta. La rabbia è tanta. La rabbia è tanta perché non è possibile che non si riesca a beccare questo o questi. Perché non è possibile. Perché qui di accidentale non c'è ben niente. No, qua non può essere accidentale. Queste sono strade strette, senza uscita. Si arriva a Balascia quindi non puoi... Non c'è una strada secondaria. Quindi qua per forza devi passare. Immagino anche le difficoltà per le squadre a terra. Perché il terreno non è sicuramente... Assolutamente impervio. Lì è proprio impervio. Non è assolutamente semplice. Adesso sicuramente staranno entrando dai nostri terreni per accedere. Ma se prende il versante lì di Giacone... Non lo bacchi più. Anzi l'ha già preso. Non è che da quello che vedo da qui... L'ha già preso. Un giornalista. Andrea Cusia. Andrea Cusia del Mino Alessandro. Non è appena passato. I vigili del fuoco immagino siamo capi. Non è il vigili urbani. Vigili urbani, cioè scusate. Ciao. Come? Io sto andando che ho la casa di là. I miei già sono qua. Sono già evacuati però. E proprio giù a Balascia. No, noi siamo qui. Dove c'è proprio... I terreni che ha beccato adesso sono i nostri. Noi abbiamo le case... Non è passata. Eh? Non è passata. Nei terreni dove abitava mio nonno. Luigi no Cus. Sotto. Le case sono le prime che ci sono qui adesso. A un chilometro qua. C'è un cancello sulla... Sulla destra voi avete trovato. Sì, quel cancello è il nostro. Ma lì ormai è già più avanti. Sì, è sotto. Però sta scendendo nel versante di Giacone. Eh, lì ci sono le case. Grazie. Grazie. Vigili urbani. La polizia municipale, sì. La polizia municipale che sta ritornando di Tempio. Anche qua. Io ho chiesto di far pulire. Abbiamo fatto... La strada è stretta. Però in questi casi è necessario che la strada sia più larga. Anche per dare più spazio ai mezzi e ai soccorsi eventualmente. E anche la polizia dovrebbe essere più... E la polizia, certo. La dovrebbe essere più... Adesso da poco è stata pulita, ma... Sì, lo vedo. Non si poteva passare, eh. Vino a... Due mesi fa era proprio chiusa. Non è possibile che queste strade rimangano... Anche perché, come ho detto prima, è l'unica strada... D'accesso. D'accesso, sì. Ce ne stavano vanno adesso. Non è possibile. Non ci volevano questa. Perché poi lì è tutta boscaglia. Adesso se entriamo da casa mia... Sì. Vediamo anche... Se ci fanno entrare. Vediamo proprio il versante... Cioè, lo vediamo da sotto. Sì. Perché qua sembra che non sia... Sembra che sia passato. La strada è molto stretta. Eh sì. Se passa una distrazione... Assolutamente. Passiamo di fronte a Bortigianas. Ecco. Ma bene che è partito... Dovrebbe... Sì, dovrebbe... Da quello che mi ha detto mio fratello è partito dalle case che ci sono su... Non mi ricordo come si chiama il proprietario. E poi, attaccato, c'è un altro terreno che mi sa che è di Pasella. E poi ci sono i nostri terreni. Quindi adesso ha preso il versante. Allora, la nostra... Il nostro ingresso è qua. Questo? Questo, sì. E sembra che non abbia... No, no, qua no. Però se entri... Ah, e vediamo. Potremmo andare... Cosa dice? Perché intanto di là non ci faranno accedere. Noi non ci faranno accedere. Di qua vediamo anche il fronte dove si sta spostando. Sì. E la casa mia la vediamo. Sì. Questi sono tutti i terreni vostri. Sì, sì. Questo è tutto nostro. Questo poi tutto il versante è giù. Questa è la casa. E sembra che non sia successo nulla. No, qua no. Poi noi abbiamo la casa giù. Questo è di mio zio. Vedete ancora l'elicottero. Noi abbiamo la casa giù. Vediamo se vogliamo scendere. Sì. Se vuoi possiamo avvicinarci qua, lascia la macchina. Non so se vuoi... Andiamo a piedi, sì. Andiamo a piedi di là che c'è una strada. Lo prendi tu? Sì. Ecco il canale è in azione. Qual è la casa Luigi? Ah, questa qua. Sì, ma dallo sviluppo del fumo che qualche cosa sia già... Che sia stato già domato, sembrerebbe? Sì, sembrerebbe. Meno male. Dal colore del fumo. Sì. Le immagini non c'erano un po' travallanti, ci dovete perdonare, ma è una questione di emergenza. Dovrebbe essere partito da quelle case. E lì ci sono delle case. Sì, da lì dovrebbe essere partito. Che speriamo siano state facuate, in ogni caso. Ecco l'elicottero che sta di nuovo caricando. Come vedete adesso si sta spostando giù. Sembrerebbero due fronti. Sì. Sembrerebbe questo fronte qua che è già stato domato, è spento. Questo è stato già domato perché non ci sono più fiamme. E poi ce l'ha vedetta. Sì. Sì, è vero. Qui ce l'ha vedetta. Mentre l'elicottero si sta spostando più in basso, quindi potrebbe essere o lo stesso o un altro fronte. Sì, sono due fronti. Due fronti, sì. Però dovrebbe essere partito da quelle case. Ascolta, Luigi, è qua sotto dove sta sganciando adesso l'elicottero? Qua sotto è il versante di, diciamo, di, no, Giacone è qua sotto. Sì, è il versante in cui va, Giacone, c'è un posto che si chiama, allora, come si chiama? Ecco, forse diciamo anche vedere lo sganciamento. Sì, la Turrina. Sì, siamo lì, siamo a sedicesimo chilometro. Sì. Esatto. Sta sganciando in questo momento. Vedete l'elicottero? Sopra la vedetta. Sopra la vedetta dell'antincendio che sta proprio lì dove sta sganciando. Avete visto il carico dell'acqua? Eccolo lì. Ma probabilmente non si vedano le fiamme. Sì, le fiamme si vedono e come, vedi? Sono abbastanza... Eccole, eccole. Però non sono molto alte. Non bisogna vedere come sono dall'altra parte. Come sono dall'altra parte. Qua è meno fitta. Indubbiamente meno fitta. E poi qua dietro, dietro questa, diciamo, questo costone è tutto bosco. E quindi se prende lì, se prende lì... E poi la difficoltà da giù è arrivare... Cioè a terra non ci può arrivare solo con gli elicotteri. Perché comunque è come vedere quel versante di fronte. E sono inaccessibili. Sono delle strade, diciamo, di penetrazione. Però in ogni caso, secondo te, non ci arrivi. Quindi a terra. Immagino che il lavoro delle squadre a terra sia veramente pubblico. Sì, assolutamente sì. No, no, per le squadre a terra è molto... Comunque, in questo punto sembrerebbe che sia stato già in qualche modo romato. Il punto dove più o meno è nato l'incendio. Sembra che sia già stato... Adesso stanno probabilmente bonificando adesso in questa zona qua. Perché non vedo più fiamme. I vigili del fuoco sono già sul posto, sì. Sì, sì, beh, ci sono tante squadre, mi ha detto. Sì, se ne sono partite tante perché in comando non c'era più nessuno. È chiamato. E sono tutti impegnati qua. Adesso il problema è proprio quel fronte lì. Sì. Dove c'è il fumo più nero, lì sicuramente ci sono le fiamme. Perché da lì parte proprio... Sì, sicuramente il Canada si è diretto lì prima. Ebbè, le squadre possono solo arrivare alla vedetta. C'è una strada di prendere trattamento. Dalla strada principale alla vedetta. Poi ti devi muovere a piedi per forza. Sì, sì, dopo o l'elicottero o a piedi. Andiamo a registrarlo. Ecco, questo lo chiamano Panther, non è un mezzo di vigile del fuoco. È un mezzo speciale che è partito dalla base di Oristano. E che si sta dirigendo dove abbiamo visto prima, dove abbiamo prima ripreso le immagini. Il fumo nero che sta salendo sicuramente fa capire che il fuoco non è stato ancora spento. Più in basso però, nella parte dove invece è scoppiato, è stato domato. Si sta dirigendo nella zona bassa. Il vento lo sta favorendo questa discesa. Vedete che sta per sganciare il suo carico d'acqua. Sta trovando il giusto momento. E questo invece è il Canada. È un continuo via vai di metri aerei. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Immagini da tragedia. Perché il fuoco da dove è partito è stato sostanzialmente spento e domato. E stanno facendo opera di bonifica in questo momento. Mentre il fronte si è spostato molto più in basso. Molto più in basso e dal vedete anche dal colore del fumo che è molto, molto, molto scuro. Che è anche piuttosto grosso. E stanno continuamente viaggiando due elicotteri e un Canada. Continuamente. Mentre le immagini sono su un elicottero sempre dall'antincendio che si è bloccato in questo terreno. Non lo sappiamo per quale motivo. Sicuramente per caricare a bordo. Anzi sì, ve lo confermo. Ha caricato a bordo il capo della forestale, Giancarlo Munconi. Che è salito a bordo. Sicuramente. Anche per capire meglio come si stia spostando il fronte del fuoco. Il fumo sale sempre più fritto e sempre più scuro. Sicuramente le fiamme sono cresciute nel frattempo. Anche per capire meglio come si stia spostando il fronte del fuoco.